E' trascorso un altro anno e i lavori per il nuovo ospedale del Felettino segnano ancora il passo. Al posto del vecchio nosocomio demolito c'era una grande spianata e pensare che al momento della posa della seconda prima pietra, abbiamo avuto infatti ben due inaugurazioni, si era ipotizzata l'apertura per l'autunno del 2020, cioè tra due anni. Il contenzioso tra l'impresa costruttrice Eire, l'Agenzia regionale Ligure Infrastrutture, non lascia prevedere al momento una soluzione positiva. Il giudizio sulla variante strutturale chiesta dall'impresa non si avrà che nei primi mesi del 2019, se tutto andrà bene. La documentazione non è ancora pervenuta alla speciale commissione nominata dalla provincia, l'ente che ha competenze sulle procedure sismiche. Ci si attendevano buone notizie dal sindaco, intervenuto ieri ai lavori della commissione consigliare. Il suo intervento però non ha affatto fugato i timori della vigilia. Il sindaco ha annunciato che la documentazione sarebbe già stata inviata da Eire alla provincia, ma gli uffici di Via Veneto non l'hanno ancora ricevuta. Unico dato positivo, se vogliamo, è che il sindaco ha annunciato che stanno per concludersi i lavori della parattia di contenimento della collina. Per tutto il resto occorrerà attendere. Il braccio di ferro tra Eire e impresa costruttrice rischia di mortificare le attese di una città e di una provincia che oggi può contare solo su una struttura ospedaliera, il Sant'Andrea, ormai al collasso. Anche l'idea progetto di ampliare il pronto soccorso grazie ad un intervento finanziario della Fondazione Carispe è tramontata, prima ancora di essere messa nero su bianco. E in questa situazione hanno buon gioco le opposizioni, molto critiche nei confronti della regione e dello stesso sindaco. Come si può pensare, dicono, di nominare un commissario per il progetto del fronte a mare quando non si riesce neppure a far partire il nuovo ospedale. Purtroppo la nostra città sembra condannata ai tempi biblici quando si parla di progetti importanti. Ci sono voluti oltre 40 anni per realizzare il porto Mirabello, quasi lo stesso tempo per l'ospedale di Sarzana. E la variante Aurelia va in questa direzione, purtroppo. Iniziata nel 1990 è oggi bloccata in attesa di un nuovo appalto dopo il forfè dell'impresa, a seguito del contenzioso con Anas. Un'inversione di tendenza è dunque auspicabile nell'interesse di tutti.